Sono convinto che il voto più coerente è quello al popolo della famiglia e a Margherita Ruffino, sindaco. Se ci pensate bene sono assolutamente certo che sia il piano razionale che il cuore vi porteranno nella direzione di questo simbolo che io porto nella testa e nel cuore, proprio anche fisicamente. E il simbolo è quello del popolo della famiglia, il nome è Margherita Ruffino, sindaco di Asti.